qui è Massimo Rea, andiamo a fare un rapid update perché sia Bitcoin che gli indici americani stanno facendo un bello scarico, andiamo a cercare di capire cosa succede e se ci sono punti di supporti validi oppure siamo di nuovo nello sprofondo, andiamo a studiare Salve a tutti e bentornati sul canale, qui è sempre Massimo Rea, intanto vi ringrazio perché abbiamo fatto un per nove con il canale in poco meno di un anno che siamo su Youtube prima non ci siamo mai esposti pubblicamente con il nostro lavoro, adesso che siamo qui grazie per apprezzare il nostro lavoro e per seguirci sempre, quindi spolliciate come se non ci fosse un domani e iscrivetevi se siete nuovi, andiamo a studiare, allora intanto la situazione è che lo scarico di Nasdaq come potete vedere abbiamo trovato un livello di resistenza dei minimi precedenti dove siamo stati respinti e dove stiamo andando al massimo accumulo della candela che aveva fatto il mega spike, questo sarà un livello chiave che ci darà un'informazione fondamentale del fatto che se effettivamente questa candela ci indicherà la forza dei buyers allora qui andranno a difendere e vedremo nei prossimi giorni ovviamente se ci sarà reazione o già da oggi ci sarà reazione. Come anche per quanto riguarda l'S&P, come vedete anche qui stiamo andando verso il POC più forte che è l'area di accumulo maggiore ed è in concomitanza anche qui della mega candela con il mega spike che ha indicato appunto una forte reazione dei buyers. Anche qui lo scarico sta avvenendo, stiamo venendo respinti dal livello chiave di cui vi parlo già da un po' di questa resistenza, vediamo se invece i buyers che qui sono entrati massicciamente andranno a difendere per continuare il trend. Per quanto riguarda Bitcoin anche stiamo andando a ritracciare, abbiamo creato un rounding, quindi una conformazione in questo senso, stiamo andando a ritestare la NEC quindi per adesso non sta succedendo nulla di tanto preoccupante, abbiamo anche molti accumuli tra cui questo più grande qui sotto che potrebbe essere un supporto valido per almeno andare ad attaccare questa resistenza di cui vi parlo già da un po', sul canale avete già tante informazioni in merito agli scenari che io ho ipotizzato che possono avvenire su Bitcoin. E vi voglio solo far notare un secondo la dominance della Tether che è praticamente la stablecoin dove tutti vanno a rifugiarsi svuoppando le crypto, apportando quindi buona parte su una stablecoin per essere ovviamente protetti dalla volatilità e come vedete c'è stata un'accelerazione settimana scorsa, abbiamo trovato un livello di resistenza, siamo in fase di ritest, qui ragazzi se questo livello di supporto terrà significa che ancora per un po' Tether avrà la massima liquidità nel suo interno rispetto al resto delle crypto. Se invece vediamo questo rompere questo livello andare giù significa che comunque c'è uno spostamento da parte dei crypto investors verso asset ovviamente più volatili. Spero che questo aggiornamento rapido vi sia di aiuto, un bel like e iscrivetevi al canale visto che siamo quasi a 1000, arriviamo a 1k. Grazie a tutti per essere qui con me